Salutiamo i nostri telespettatori con questo nuovo appuntamento ospite Roberto Simonetti, deputato di Lega Nord e anche presidente della nostra provincia di Biella. Oggi tratteremo due argomenti, uno a livello locale, il bilancio che è stato provato in questi giorni con molti sforzi, grazie ai tagli che ormai da anni colpiscono gli enti locali e poi un argomento anche a livello nazionale. Bene, onorevole, come si è riusciti anche quest'anno ancora per una volta a far tornare i conti della provincia? Sì, i conti della provincia siamo riusciti a quadrarli tagliando molte spese, diciamo che il discrezionale, il superfluo sono già anni che l'amministrazione provinciale non li ha più, siamo dovuti andare a prendere delle risorse in tutti gli assessorati, in modo principale quello legato ai lavori pubblici e a quello legato alla formazione e politiche sociali, senza comunque andare ad intaccare i livelli minimi essenziali di funzionamento dell'ente locale. È chiaro che se negli ultimi cinque anni abbiamo perso 5 milioni di trasferimenti, di cui 2,2 milioni solo dall'anno scorso a quest'anno a causa della manovra a Monti dello scorso dicembre, è chiaro che gli enti locali non hanno più la forza economica per essere protagonisti sul territorio, riusciamo quindi a pareggiare un bilancio ma senza poter fare uno sviluppo, sviluppo, investimenti, ormai solo più ordinaria amministrazione. Siamo appena sopra l'ordinaria amministrazione, riusciremo comunque a realizzare la tangenziale di Mongrando, la tangenziale di Gragli, a fare le asfaltature e le piccole manutenzioni, ma ovviamente abbiamo anche la strada dell'ospedale già programmata, quindi 3-4 opere importanti ci sono, però è chiaro che non si può pretendere di più. Bene, poi passiamo dai temi locali, per l'anno 2012 è garantita comunque ancora un'attività sostanziale per la provincia, ecco una cosa che dimenticavamo, siete riusciti nonostante le difficoltà ai tagli a ridurre un pochettino la tassa sui passi carrai, che ha visto tanti, non d'accordo, ma in momenti così di difficoltà, chiaramente bisogna che tutti facciano qualche sacrificio. Purtroppo è così. Ecco, non volevo remi scusi, era anche comunque una tassa che già anni fa, quando le strade erano ANAS, la gente pagava normalmente. Sì, è un'imposizione che c'era, era stata tolta quando c'era la possibilità di avere altri finanziamenti, noi avevamo promesso una riduzione del 50%, nel momento in cui sono arrivati gli ulteriori tagli, come dicevo prima, di 2,2 milioni di euro, e purtroppo vi è anche un calo di entrate legate al mondo dell'auto, delle trascrizioni delle autovetture, abbiamo una minore entrata di 600 mila euro, ecco, tutte queste situazioni negative nelle entrate ci hanno indotto a non poter tagliare del 50%, però la promessa di vicinanza verso la cittadinanza l'abbiamo voluta mantenere e abbiamo quindi fatto quanto possibile, cioè un taglio del 10% della COSAP, cercando ovviamente nel proseguo della legislatura di tagliarne ulteriormente ulteriori quote in funzione appunto di minori spese che andremo a fare in altri settori. Ecco, mentre invece a livello nazionale proprio parliamo ancora di federalismo, un federalismo fiscale che ha visto Lega Nord impegnata per anni e diciamo con grosse difficoltà anche con l'alleanza del governo Berlusconi, un federalismo che oggi con il governo Monti praticamente con un colpo di spugna sembrerebbe sparire e soprattutto facciamo riferimento sulla vendita di immobili che lo Stato italiano sta organizzando per fare cassa e soprattutto su quello che riguardava il federalismo demaniale. Quali sono le ultime notizie che arrivano da Roma? Sì, le notizie che arrivano da Roma è che la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale è stata trasformata nella Commissione per l'attuazione del centralismo statale, nel senso che ogni partita di devoluzione di poteri, di autonomia istituzionale, impositiva ed economica e finanziaria agli enti locali è stata cancellata. Non ultimo questo desiderio del governo Monti di fare cassa sulla vendita degli immobili pubblici, che da un certo punto di vista può essere un'idea sana. Il problema di fondo è che il governo vuole obbligare anche gli enti locali a vendere i propri gioielli di famiglia che sono composti appunto da immobili, che sono composti da fabbricati e anche dalle partecipazioni a delle società municipalizzate che molte volte danno degli utili agli enti locali. Quindi si vuole proprio mettere sul mercato tutto l'oro di famiglia, i gioielli di famiglia, per fare che cosa? Non per fare investimenti, non per riuscire a capitalizzare un patrimonio, ma per avere liquidità per pagare i buchi, per riuscire a risanare un bilancio dello Stato che continua a aumentare il proprio debito. Nell'ultimo anno è aumentato ulteriormente, adesso siamo a 1.850 miliardi di euro, siamo arrivati all'altro giorno a 1.998 miliardi di euro, quasi 2.000 miliardi di euro di debito pubblico. È chiaro che tutto questo cosa inficia? Inficia la possibilità degli enti locali di avere una propria potestà economica e avere una propria forza economica da poter utilizzare per dare sussistenza alle esigenze dei cittadini. Il federalismo demaniale era nato attraverso l'intuizione dei Calderoli, attraverso la devoluzione di beni che lo Stato ha in suo possesso, ma che non utilizza sul territorio, da poterli gestire a livello comunale, a livello provinciale, in modo tale da creare una valorizzazione di tutti questi immobili a favore degli enti locali, in modo tale che potevano o utilizzarli per la cittadinanza come nuove scuole, come nuove strutture socioassistenziali, come nuove strutture legate all'attività istituzionale, oppure valorizzate e vendute, però questi soldi andavano in capo al comune che poteva utilizzare per i cittadini. Così invece tutti questi soldi vanno in capo allo Stato per abbassare il debito pubblico e non certo per creare sviluppo. Ecco, il problema dell'Italia in questo momento è una tassazione troppo elevata e nessuna politica per lo sviluppo. Anche questo va in quest'ottica. Nessuno sviluppo. Parrebbe che se queste vendite portassero un buon introito per lo Stato parrebbe che a settembre poi l'IVA non aumenti di quel 2% che è già stato previsto e quindi sarà anche questo di nuovo una fonte di aumento dell'inflazione, aumento per i costi delle famiglie e veramente sulla carta un 2% sembra poco ma poi a fine anno quando si tirano giù i conti per le famiglie sarebbe di nuovo veramente una bella batosta. Speriamo che questa vendita di immobili e questa già promessa spendi review che vuole fare il governo porti dei frutti positivi perché se no veramente a settembre ne vedremo di belle. Grazie per la visione!